La cantina produttori vini Manduria, fondata nel 1932, rappresenta oggi la memoria storica del mondo enoico pugliese. Mille ettari di vigna, condotti con passione e competenza, costituiscono la forza di una cooperativa che ha sempre creduto ed investito nelle qualità di uno storico vitigno o top. Il Primitivo. Dalle sue uve si ottiene un vino dalla marcata personalità. Ricca la gamma di variazioni offerta per inebriarsi con un sorso di armonica poesia. memoria, lirica, elegia, sonetto e madrigale. All'interno della cantina è ubicato il Museo della Civiltà del Vino Primitivo, nato per ricordare gli uomini e le cose che hanno segnato la storia del vino primitivo. Il suggestivo percorso espositivo si articola in oltre 30 ambientazioni, ricavate nelle antiche cisterne ipogee della ottocentesca cantina, oggi divenute originali ambientazioni tematiche. Per enoturisti appassionati del vino primitivo e della civiltà contadina, il Museo propone anche degustazioni di vino accompagnate dai piatti dell'autentica tradizione gastronomica contadina, nelle quali vino e cibo sono illustrati e raccontati come parte della nostra storia.